buongiorno carissimi amici oggi facciamo dei piccoli panini da farcire sono delle panini che sono salutare sono con farina integrale con la crosta ancora e poi ingredienti sono commino che hai grandi di commino 15 grammi di lievito e un po di sale a volontà qui abbiamo semi di lino integrale qui abbiamo il girasole semini di girasole e qua abbiamo il semini di scia la nostra bologna è un po di salire e una pochina con la città di giovane, il primo salire un pochino con la città del limon, il limonato del limonato, il limonato 15 grammi di chimera e il limonato e il limonato, il limonato e il limonato, il limonato 2 ottime Un'errore della nostra cintura Un'errore della cintura Un'errore della cintura Los mosso Alessandrò Gara che l'errore Di una strada Lasce dell'errore Alessandrò Le scolet greggie sono delle piccole paniche, sono semplicissime veramente da fare. Abbiamo messo il comune, questo qua le dà un gusto che è particolare. Facciamo un po' più importante, è un po' più importante, come dice. Questa è un po' molto importante, l'acqua deve essere tiepida non deve essere né troppo calda né troppo fredda deve essere veramente tiepida si basta un pasto normalissimo semplicissimo vengono veramente buone buone l'impasto deve essere bello morbido ci vuole proprio pochissimo per l'impasto sono solo cinque minuti l'impasto non ci vuole tanto la operazione a che non si sapega che non che non si che non si chiedeva che non si chiedeva che non si chiedeva stiamo per 2 o 3 minuti e guardiamo se abbiamo bisogno ancora di un goccio d'acqua lo aggiungiamo per me qua è abbastanza morbida il nostro pasto è fito e bisogna farlo lievitare per un'ora e mettiamoci una eccezza di acquisto e usiamo a prendermi una finestra e nei lasciamo livitare eccoci cari amici il nostro appasto è lievitato super lievitato non sono lievitato perché io non c'è tutto di più avevo un pochino da fare però è lievitato io ungo un po' le mani con un po di olio così non si attacca e solo dovevamo formare un po' di farina un po di farina, un po di farina un po' di farina farsi se vuole is that dobbiamo usare un taglierino una formina ma io non ho la formina e quindi uso questo bicchiere qua e dovremmo farli tutti con l'impasto non deve essere né troppo grasso mettere un taglierino e mettere un taglierino un indiru l'yugafor matakokh bilzete sghiurat un qawak ketteten kemlu un beth mstashat teqq nina hum khimlu shishuya dopo 15 minuti che li abbiamo lasciati di nuovo a riposare adesso li facciamo cuocere in padella quando li mettiamo giù qualche minuto e dobbiamo girarli subito che così si formano le nostre piccole famiglie così ci entriamo con una paletta e le lasciamo cuocere ecco adesso li dividiamo un'altra volta ecco quando sono già così ora li facciamo cuocere in piena qui non si creiamo un pez che è un po' ora li facciamo un po' . 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